Questa lettura risale al 1950. Con la fine della seconda guerra mondiale è fiorita finalmente l'attesa di una nuova stagione dell'umanità. I confini non devono più essere motivo di discordia, ma di curiosità. L'umanità deve poterli valicare liberamente e in pace. Le distanze devono essere percorse per ragioni di conoscenza e non di vita o di morte. Il Touring Club in quegli anni si ad opera per incoraggiare il turismo, cogliendo in pieno questa potente aspirazione così sentita nel nostro paese duramente provato. Così affida ad uno studioso di antichità greche un articolo che ripercorre in breve la storia del viaggio e dell'ospitalità. Occorre incoraggiare la gente impaurita a riprendersi sui spazi naturali, che non hanno confini geografici invalicabili. Il viaggio in terra è lontane e l'ospitalità dovuto al viaggiatore sono valori antichissimi, che un'era sciagurata dell'umanità non può cancellare. Questo è il contesto che vede apparire nel 1950 in una rivista del Touring Club, Le Vie d'Italia, d'articolo dal titolo Alberghi e ospitalità nel mondo antico. L'autore è Arturo Brambilla, uno studioso di antichità che lo scrittore Dino Buzzati tenne in grande considerazione, legato peraltro a lui da profonda amicizia. I loro rapporti sono ben documentati in un volume che raccoglie le lettere scritte da Buzzati ad Arturo Brambilla. L'articolo che ho scelto è una lettura ricca di informazioni e citazioni anche letterarie sul viaggio nell'antichità e spero possa esserlo anche l'ascolto. Ho dovuto mettere insieme solo un estratto dello scritto per contenere i tempi, avendo cura che i pezzi assemblati non distorcano il senso e non interrompano il filo conseguenziale del discorso. Buon ascolto. È opinione abbastanza diffusa, ma non del tutto fondata, che gli antichi viaggiassero poco. Bisogna fare perlomeno alcune distinzioni. Se per esempio si lasciano da parte i grandi movimenti di popoli che si verificavano in occasione di migrazioni o di guerre, si può effettivamente ritenere che prima della costituzione dell'impero romano i viaggi di carattere individuale e privato fossero piuttosto rari. Coloro che viaggiavano rappresentavano allora nel complesso della popolazione una porzione piccola e ben individuata. Commercianti innanzitutto, poi ambasciatori e altri funzionari pubblici e uomini politici, pellegrini in visita ai santuari per assistere alle feste o per consultare gli oracoli, e infine piccolo manipolo i dotti che giravano il mondo per curiosità di sapere. Quando poi Roma unificò tutto il mondo conosciuto sotto il suo impero e stabilitavi per più secoli la pace, aprì nuove strade e garantì la sicurezza delle comunicazioni. I viaggi presero un impulso enorme, tanto che gli studiosi che si sono occupati di questo argomento hanno concluso che il traffico giunse allora a un grado di sviluppo che non fu poi più oguagliato fino all'inizio del secolo scorso. In un'iscrizione sepolcrale trovata ai Rapoli in Frigia, nell'Asia minore, un certo Flavio Zeus, padrone di una fabbrica, dichiara di essersi durante la sua vita recato 72 volte in Italia per affari. E tutto sommato, conviene dunque meravigliarsi piuttosto della frequenza che della rarità dei viaggi nel mondo antico, quando si fa il confronto con l'epoca moderna e si tenga conto delle straordinarie difficoltà che si dovevano allora presentare. Primitivi erano i mezzi di trasporto per terra per mare, rare e malsicure le notizie degli itinerari, scarse e poco praticabili le vie. Anche sotto i romani che rimasero giustamente famosi come costruttori di strade, le cose migliorarono solo fino a un certo punto, se sentiamo celebrare come una meraviglia la larghezza della via Appia perché permetteva a due carri di incrociarsi senza dover uscire dal selciato. Dei disagi che dovevano affrontare i viaggiatori sono frequenti le testimonianze negli antichi scrittori, sicché era diffusa la convinzione che il viaggiare fosse da considerare una disgrazia spesso inevitabile e non un diletto. Ma l'aspetto più curioso di queste difficoltà è per noi moderni il problema dell'alloggio. Si sa che gli alberghi, specialmente nei tempi più antichi, erano ignoti o quasi. Dove trovava ricovero e ristoro il viandante che per giorni, spesso per mesi, peregrinava di paese in paese? I mercanti, come è naturale, vivevano sulle loro navi o sui carri delle loro carovane. I coloni erano gente che a gruppi abbandonava definitivamente una patria per cercare altrove i mezzi per vivere e dove arrivava piantava la sua casa. Ma accadeva anche allora che un privato a un individuo isolato si spostasse per motivi personali. I sapienti, per esempio, intraprendevano spesso ardite esplorazioni per conoscere i costumi e le dottrine di genti lontane. Solone, il savio legislatore di Atene, nella prima metà del VI secolo a.C. visitò l'Egitto e l'Asia minore. Nello stesso secolo fu in Egitto anche Talete, il filosofo di Mileto, e si racconta di viaggi in Oriente di Pitagora. Nel secolo successivo Erodoto divenne famoso, oltre che per la composizione delle sue storie, per i viaggi straordinari che dedicò alla raccolta delle notizie. Egli percorse l'Italia meridionale, la Sicilia, l'Egitto e la Siria, l'Asia minore, la Persia e le coste del Mar Nero. E dopo di lui si potrebbe citare una lunga lista di dotti viaggiatori. Cosa sostituiva gli alberghi per questi viandanti isolati, non provvisti di speciali poteri, né di eccezionali ricchezze? La risposta è abbastanza nota. Al posto degli alberghi vi era l'uso dell'ospitalità. Lo sconosciuto che giungeva in un paese nuovo era accolto con benignità e con onore nelle case in cui andava a bussare. Presso gente modesta, se era egli stesso modesto, presso i ricchi e i potenti, se era in signe per dignità o per sapienza. Oste era allora l'ospite, cioè la persona ospitale, secondo l'identità etimologica delle due parole. Già i poemi omerici, che costituiscono per noi il più antico monumento letterario della civiltà greca, offrono una ricca e particolarizzata documentazione dell'istituto dell'ospitalità. Accogliere lo straniero, fornirlo di tutto ciò che gli occorresse, congedarlo con doni e con scorta era considerato dovere solenne. Famoso è l'episodio del sesto canto dell'Iliade, in cui dai due opposti campi si fanno incontro per battagliare Glauco e Diomede, ma avendo scoperto che esisteva tra i loro antenati un vincolo di ospitalità, rinunciano al duello e, strettasi la mano, si scambiano le armature, in segno di mutua fede. Infinite altre testimonianze si potrebbero citare, specialmente dall'Odissea, che è un libro di viaggi e di avventure. Se ne deduce, fra l'altro, che esisteva, almeno per le classi elevate, un'etichetta particolare, regolante le relazioni tra gli ospiti. La enuncia, per esempio, il vecchissimo re di Pilo, Nestore, quando Telemacolo va a trovare da Itaca, nella speranza di avere notizie del padre Ulisse. Sta bene chiedere agli ospiti chi essi siano, ma solo dopo che si siano saziati di cibo. A questa regola vediamo che nel mondo americo ci si attiene scrupolosamente. L'ospite, al suo arrivo, è condotto innanzitutto al bagno e gli si offrono lavacri, unguenti e vesti pulite. Poi viene fatto un sedere a mensa e solo alla fine del pasto gli si chiede chi sia e d'onde venga. Talvolta, per colmo di riguardo, si attende a rivolgergli questa domanda fino al giorno dopo o a più giorni dopo. Cosa tanto più curiosa in quanto la formula di domanda consisteva di solito nel chiedere al nuovo venuto se viaggiasse per affari o se fosse un pirata, ma si sa che la pirateria nei tempi antichissimi era tanto comune da essere considerata una professione più rischiosa che disonorevole. Non molto diversamente doveva svolgersi la piccola cerimonia nelle case dei poveri, quando Ulisse alla fine delle sue peregrinazioni giunse ad Itaca si presentò travestito da mendicante alla capanna del suo fedele porcaro Eumeo, il quale, senza riconoscere in lui il padrone, lo accolse con ogni cortesia. Non mi è lecito, straniero, egli dichiara, mancare di rispetto a un ospite, anche se ne giungesse uno più meschino di te, poiché da Giove vengono tutti gli stranieri e i mendichi, e il nostro dono riesce caro, anche se piccolo. Quest'ultima espressione del dono piccolo e caro doveva essere un detto proverbiale, tanto spesso irripetuta nei poemi omerici. Sull'ospitalità è imperniata anche la favola di Alcesti, il re Atmeto dovette all'ospitalità concessa ad Ercole di riavere la moglie che era morta volontariamente per lui. Curiosi sono nel dramma di Euripide, che si intitola ad Alcesti, i sotterfuggi escogitati da Atmeto per tenere nascosto ad Ercole il lutto che ha colpito proprio allora la sua casa, affinché l'eroe, per delicatezza, non rifiuti la sua ospitalità. Quando Ercole viene a sapere fino a che punto Atmeto ha spinto il suo dovere ospitale, per ricompensarlo s'azzuffa personalmente contanato, il dio della morte gli strappa Alcesti e la restituisce al marito. Il peggiore dei delitti era per gli antichi quello di uccidere un ospite o di violarne la donna, come fece Paride. Ancora Erodoto racconta la leggenda secondo cui Paride, quando fuggiva con Elena dopo averla rapita a Menelao, approdò in Egitto e fu condotto presso il re Proteo, il quale, saputo il suo misfatto, così si espresse. Io, o pessimo degli uomini, se non ritenessi che il primo di tutti i doveri è quello di non uccidere nessun ospite, ti manderei a morte, poiché hai compiuta la più empia di tutte le opere, ottenuto ospitalità, hai sedotta la donna del tuo ospite. L'ospitalità era nel mondo antico, ed è tuttora nelle società primitive anche una difesa spontanea contro la mancanza di un diritto internazionale. L'uomo che lasciava la propria patria lasciava con essa la tutela delle sue leggi ed era alla mercè dei soprusi di chiunque volesse abusare della sua qualità di straniero, e poiché la Grecia classica era costituita politicamente da un mosaico di città autonome, ognuna delle quali costituiva uno stato a sé, la sicurezza legale abbandonava il viaggiatore, si può dire, appena uscito dalle mura del suo borgo. Un'obiezione che si presenta comunemente ai moderni a proposito dell'antica ospitalità riguarda gli inconvenienti e gli abusi a cui essa sembra che dovesse dar luogo. Molto comodo questo sistema si dice o si pensa viaggiare senza spendere un soldo in alberghi ricoverati, nutriti, rivestiti e per di più congedati con ricchi doni. Ma il freno naturale all'abuso dell'ospitalità era offerto, come facile capire, dalla difficoltà stessa del viaggiare e dalla relativa scarsità dei viaggiatori. Per notevole che fosse lo sviluppo dei traffici bisogna pensare che la massima parte degli uomini conducesse un'esistenza sedentaria e che non solo nei paesi, ma anche in molte città la vita scorresse monotona e isolata dal mondo. L'arrivo di uno straniero costituiva una novità attraente e desiderata, una finestra che si spalancava su lontane terre, una fonte di informazioni cui si attingeva avidamente con la curiosità lungo insoddisfatta dei sedentari. L'odissea è riempita per alcuni canti dai racconti che Ulisse fa delle sue peregrinazioni ai feaci che lo ospitavano. L'Eneide dai racconti analoghi fatti da Enea di Done e l'interesse degli ascoltatori appare insaziabile e vorrebbe che la narrazione si prolungasse all'infinito. Anche i doni che si offrivano agli ospiti, oltre che un segno di umanità versi bisognosi, erano un compenso per il piacere che l'ospite aveva recato con la sua venuta. Nel Timeo di Platone, dove l'ospitalità è data e ricambiata da filosofi, Socrate e i suoi ospiti dichiarano di volersi offrire reciprocamente come doni ospitali addirittura i discorsi stessi e i ragionamenti di filosofia. Si può concludere generalizzando che l'ospitalità in ogni tempo e in ogni paese tanto più diffusa quanto meno frequenti sono i viaggi e più rari i viaggiatori. L'intensificazione del traffico, che come se detto in principio si verificò sotto l'impero romano, dovette segnare l'inizio della decadenza di quell'ospitalità incondizionata che caratterizza i tempi più antichi. Un indizio sicuro è offerto dalle testimonianze sempre più frequenti sulla diffusione degli alberghi, poiché l'ospitalità professionale che si esercita negli alberghi è in un certo senso l'antitesi dell'autentica ospitalità occasionale spontanea. Nel mondo romano gli alberghi furono in prevalenza istituzioni di Stato, disseminati lungo le principali vie imperiali per comodità dei magistrati, dei legati, dei corrieri che viaggiavano con incarichi ufficiali. Li tenevano appositi impiegati, chiamati parrochi, con parola greca che vuol dire fornitori, e l'ospitalità che essi erano stipendiati per offrire doveva essere modesta e ridotta all'indispensabile. Legna e sale, dice Orazio, con una formula probabilmente tradizionale per indicare il vitto e l'alloggio. Solo in qualche località famosa, per un santuario o per sorgenti di acque salutari, sappiamo che vi erano alberghi più grandi e più comodi a disposizione di chi volesse usarne, come a Olimpia e a Pidauro nel Peloponneso e a Canopo in Egitto. A Epidauro, stazione di cura assai frequentata, si è riconosciuta la pianta di un edificio con 180 camere. Anche le osterie, taberne, caupone, erano molto rozze e dimesse, frequentate per lo più da gente di bassa condizione e spesso malfamate per storie di corruzione e di brigantaggio. Solo in caso di necessità vi ricorrevano i viaggiatori di classe elevata. I grandi personaggi e i ricchi in giro di affari o di piacere portavano con sé un seguito numeroso di servi di ogni genere e una quantità di bagagli, e ove non pernottassero presso i maggiorenti dei vari paesi, disponevano di tende e di carri attrezzati per dormirvi, le carrucche dormitorie, vere antenate delle vetture con letti dei nostri treni. Famosi rimasero i viaggi di Nerone, di cui si diceva che non si muovesse mai con meno di mille vetture al seguito, è degno di ricordo in senso opposto quel pretore Tirchio, di cui parla canzonando l'Orazio in una satira, che viaggiava con soli cinque schiavi, recanti il vasellame di cucina e pare altro vaso, ancor meno decoroso. Si dà quindi questo curioso contrasto tra il mondo antico e il moderno, che mentre oggi la povera gente quando si muove di casa cerca di accomodarsi in qualche modo presso parenti e conoscenti, continuando un po' con le vecchie tradizioni dell'ospitalità ed evitando gli alberghi troppo dispendiosi. Nell'antichità erano piuttosto i ricchi che facevano a meno degli alberghi e li lasciavano alla povera gente. Ad un albergo il buon samaritano del Vangelo consegnò, perché ne avessero cura, lo sconosciuto che i ladroni avevano derubato e lasciato mezzo morto sulla strada. E Gesù, secondo San Luca, nacque in una stalla perché Giuseppe e Maria non avevano trovato più posto nell'albergo di Betlemme, affollato nei giorni del censimento indetto da Cesare Augusto.